Vediamo l'argentino come se l'accava, calcio di rigore procurato da Mancosu e affidato a Piatti per la trasformazione Piatti, gol, gol, gol del 2-1 con Montreal di nuovo avanti, ma l'abbiamo detto in questa partita può succedere ancora di per l'argentino, uno sguardo di Ipsa, New England, e Ramanti 2-0, parte Piatti, l'angolino è quello buono, 3-2 Montreal che ribalta completamente Di Drogba kick the ground or was he clipped by Madronda, very difficult to tell, but either way it will be a penalty, and it's Nacho Piatti, and it's 2-1. Piatti will step up, Saunders guesses the right way, but just can't reach it, and Montreal is equalized in the 77th minute, Piatti, front, he saved 5 out of 16 penalties, Piatti to take it, looking for his second goal of the year, and it is struck to his left and scored Montreal in front, on the penalty, Ignacio Piatti, Kennedy went to his left, Può andare sul 4-0 Montreal, la rincorsa di Piatti, la parata di Nick Rimando, secondo rigore consecutivo parato